Questi sono i sogni dei bambini del Comitato Maria Letizia Berga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Quando è nato il Comitato, 40 anni fa, il nostro sogno era di vederli crescere, diventare grandi, vivere. 40 anni, oltre 2000 bambini guariti fa. Oggi più dell'85% dei bambini guarisce. Non è abbastanza. Insieme possiamo guarire un bambino in più. 40 anni. Noi del Comitato contiamo gli anni in bambini guariti. Comitato Maria Letizia Berga. Ricerca, cura ed assistenza insieme.